Ciao, sono Andrea, cantante degli Ominoacidi, band punk rock bolognese fondata nel 2011. Dalla nascita abbiamo all'attivo un disco dal titolo Pensavo fosse A, nato in collaborazione con Radio Città Fujiko, storica radio locale. Ok, ok, ok. Ciao, sono Andrea, forse vi ricordate di me per la scena dell'ingresso. Con la nostra musica vorremmo mostrare il punto di vista più critico e divertente della società moderna in Colombia. Usciamo ora con il nostro nuovo album dal titolo Nocivo, con tematiche più rividenti e suoni molto più soliti. Io? Io rivedrete. No, bene. Questa campagna viene a farci conoscere di più e a produrre meglio il nostro nuovo album. Potete trovarci sulla nostra pagina ufficiale di Facebook o su YouTube digitando Ominoacidi Bologna. Quindi contattateci, ascoltateci e se volete contribuire all'uscita del nostro nuovo disco registratevi su Music Razer e acquistate uno dei nostri pacchetti. Grazie del vostro supporto, non esistate a contattarci sui nostri social per qualsiasi info. Ciao, a presto! Ciao! Ciao! Ciao!